i bomboletti cali a sanzanasi e fina la forchettina piorellina cagnole da betta allora mangia dai che vi sto facendo il video non mangiano più la mattina zani ce l'ha fatta è riuscita a sballarvi lo stomaco un'altra volta su un uid io dovrei stare qui o lavoro o non lavori o sei in ferie o se domenica o il lunedì o è festività o lavori come schiavo presso la ditta oppure sei un indipendente super tassato oppure sei nelle mani di mafie varie criminalità terrorismi e cose insomma uno stesso stare qui a fare finta di essere ignorante io dovrei essere 11 che non ho più che ignorante uno che non vuole sapere uno che si basa non sulla conoscenza ma sulla non conoscenza non mangiano più se mangiano però sono sfasati quegli orari per colpa dell'osso col prosciutto crudo e ora ha inserito quest'altro elemento zani lo yogurt perché gliel'ha detto una commessa amica sua ha detto dagli lo yogurt ai cani lo yogurt intanto deve essere uno yogurt privo di zucchero questo è magro greco però non va bene gliel'aveva dato anche con la fine ma gli si dà una volta ogni ogni morte di papa una volta ogni sarà morto il papa non lo so perché dare continuamente tutte queste cose ai cani un continuo un continuo non non sa più che cosa gli deve dare un continuo effetto finale i cani non mangiano più guarda la mattina alzavano e facevano colazione si mangiavano quello all'incirca e quello all'incirca cali e tofino e poi a pranzo e poi a cena ora la mattina finisce ed è con chi stanno i cani con chi stanno ora quindi uno si deve sposare si deve prendere donne o mariti che siano deve convivere con persone che utilizzano i cani e i figli per fare del male e giudici magistrati magari gli avvocati fanno finta di niente e vanno a cercare leggi ma più legge di questo di provocare di essere incapaci di intendere e volere essere incapaci vuol dire che sei incapace e non dà la fine magari in altre cose riesci qui no quindi i giudici dovrebbero capire prima di tutto quando si valutano dei figli e delle cose se la persona è capace ma siccome i giudici sono degli incapaci la maggior parte sono dei suckers di merda finta pura perché su findi questi sono i risultati della scarsezza italiana e dei paesi come l'italia io mi dovrei prendere dei figli o condividere qualche cosa con delle persone familiari o parenti o nuova famiglia che non riescono scarsi scarsissimi che non riescono magari riescono in un'altra cosa anche io posso essere scarso a fare una cosa che non faccio che non ho mai fatto pulire il pesce io ho sempre lavorato pesce congelato e non lo pulito quindi si faccia pulire il pesce da suo padre e da sua madre se ce l'ha ancora o da chi vuole moglie, compagnie io quindi devo prendere dei figli, devi prendere dei cani, devi gestire una campagna, devi gestire un terrazzo, devi fare delle cose o non le fai questo è un crimine, questo è mafia, questa è una soverchieria, come non le faccio le faccio e si devono fare come dico io perchè io sono capace e voi non siete capaci cosa succede però se non si fa e che pagherete alla fine ci sarà una bella linea totale con questi parenti, questi mogli, queste compagne una bella linea e tiriamo una bella linea una bella linea dove si vedranno quali sono le realtà qual è la realtà sarà sempre peggio perchè questi pischelli, questi scarsissimi dei carabinieri, della polizia, della magistratura, della finanza sono dei sciucciatori di cazzo cioè della gente che suca solo la minchia senza fare quello che devono fare cioè sono delle persone inutili in un paese inutile a posto di smuoversi e fare le cose si devono fare in maniera che io mi posso gestire le mie cose senza avere gente che mi distrugge la vita e che mi scassa la minchia capito? che proprio me la scippa la minchia questi carabinieri, questa polizia aspettano lo scippamento della minchia perchè così poi ci fanno i programmi televisivi così guadagnano guadagnano questi succhiacazzi e allora siete nel più completa errore avete sbagliato tutto tutto il mestiere che fate non lo sapete fare state zitti zitti ma noi siamo le cagnolette pete le nicarete per fare cose pete zitti da oggi le comunicazioni dovranno essere solamente a senso unico o a doppio senso e io mi sognare cagnolette per la campagna bella mi rognuna rata e io mi faccio a ninnananni e io mi rognuna rata